Oggi sofferenza, oggi ho sofferto proprio fisicamente credo, perché è una partita contro un avversario forte che ti può far gol quando iniziava a rimbalzarci la palla dentro l'area per, non so, tutte quelle volte, neanche non mi ricordo bene, è stata dura. Comunque siamo partiti un po' impacciati, soprattutto palleggio dobbiamo essere un po' più consapevoli e soprattutto capire quando giocare in avanti. A volte non guardiamo neanche avanti e rigiochiamo dietro, bisogna avere questa consapevolezza ancora, però oggi abbiamo cambiato, ha esordito Bordin, ha fatto una buonissima partita, ragazzo molto interessante.